Oggi affrontiamo un argomento delicato ma fondamentale per la sopravvivenza e la crescita del tuo business, la dipendenza eccessiva da pochi clienti. È una situazione nella quale si trovano veramente troppe aziende, specialmente quelle che hanno un grande successo all'inizio, ma che rischiano poi di trovarsi in difficoltà col passare del tempo. Perché se gran parte del tuo fattorato dipende da due o tre clienti principali, allora devi stare molto attento e questo contenuto è proprio per te. Perché se da un certo punto di vista avere pochi clienti che pagano tanto è una situazione comoda, perché vuol dire che pagano bene, ti danno lavoro in maniera regolare eccetera, il problema è che sei veramente su un filo di lama, perché se uno di questi clienti decide di interrompere il contratto, di chiamare fornitore ad esempio, o fallisce, il tuo business rischia di crollare ed è una situazione in cui non puoi permetterti di trovare. Fatti proprio questa domanda, chiediti se uno dei tuoi clienti principali oggi smettessi di ordinare da te, come farebbe la tua azienda per sostenersi? La maggior parte degli imprenditori in questa situazione risponderebbe non ci riuscirei. E questo ovviamente crea una situazione instabile che nel lungo periodo è assolutamente pericolosa. Vediamo infatti alcuni dei principali rischi. Allora, la prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che se hai pochi clienti che costituiscono la gran parte del tuo fattorato, sono loro che dettano le regole. Quindi ti chiedono degli sconti, possono chiederti dei tempi di consegna più veloci ad esempio, o condizioni che magari non sono sostenibili, ma che, e succede tantissime volte a tante aziende, sei costretto ad accettare per non fallire. Ma in realtà stai solo prolungando la tua agonia. E non puoi rifiutare perché altrimenti faresti ancora peggio. Quindi è una situazione veramente terribile. Inoltre c'è un discorso di concentrazione del rischio, come quando investi in azioni. Se investi tutto su una singola azione, dipendi solamente da lei praticamente. Se investi in 100 sai che il rischio è assolutamente diluito. E la stessa cosa succede con i tuoi clienti. Se hai 100 clienti e ne perdi uno, tendenzialmente ti cambia poco. Se hai 2 e ne perdi uno, rischi di perdere metà del tuo fatturato. Allo stesso tempo, quando lavori troppo per pochi clienti e grandi, rischi di non avere tempo, energie o risorse per far crescere il tuo business. E quindi questo rallenta la crescita o addirittura blocca la crescita del tuo business. Quello che dovresti fare, infatti, è innanzitutto avere un flusso costante, come dico ormai da anni, di nuovi clienti. Quindi ogni mese, ogni anno, se lo vogliamo vedere per le lunghe, deve avere di nuovi clienti. Idealmente dovresti cercare clienti di nicchie diverse, perché se lavori nello stesso settore e quel settore ha un crollo, diciamo che rischi di perdere più clienti in un colpo solo. Dovresti poi integrare delle strategie per offrire prodotti o servizi che abbiano un abbonamento ricorrente. Perché una delle strategie più efficaci per stabilizzare il fatturato è proprio quello di creare prodotti o servizi ricorrenti. Questo ti permette ogni mese di avere delle entrate senza dover cercare nuovamente nuovi clienti e i vantaggi, ne ho parlato più volte nelle pillole, sono veramente troppi. Per cui quello che dobbiamo tenere in considerazione è che noi dobbiamo mantenere buoni rapporti con i clienti esistenti, ma allo stesso tempo non possiamo dipendere troppo da loro. Quindi devi bilanciare entrambe le cose e quando un cliente inizia ad essere troppo oneroso in termini di costi perché ogni cliente ha un costo, un costo di tempo, di energia, di risorse e quando un cliente usa troppe di queste risorse, tempo, eccetera, rispetto a ciò che paga, inizia ad essere un problema perché toglie risorse dalle altre parti e quindi dovresti iniziare a valutare di eliminare questo cliente o di dettare nuove condizioni. Non è facile, assolutamente no, ma se hai una buona base di clienti, un buon numero di clienti che arriva ogni mese, ogni anno, allora sarai molto più sereno nell'abbandonare un cliente grosso perché sai che ne avrai altri che faranno da cuscinetto e riuscirai a sviluppare nuovamente tutto ciò che serve. Per cui oggi rifletti su questo e immagina l'avere pochi clienti ma grossi come camminare su una corda. Bella tesa. Può sembrare stabile, ma basta un piccolo passo falso per cadere di sotto. Quindi, chiamiamolo il segreto, consiste, come dicevo poco fa, trovare il giusto equilibrio tra mantenere clienti vecchi e trovarne di nuovi. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, rifletti proprio su questo e chiediti com'è la tua situazione ad oggi. Hai pochi clienti che usano un sacco del tuo tempo, delle tue risorse e che ti danno la maggior parte del fatturato oppure hai tanti clienti che diversificano, tra virgolette, il rischio. Riflettici perché è un elemento assolutamente importante del tuo business. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!